I TALK Salve, sono Catarina, vengo dalla Germania. La mia domanda è perché ci sono diversi limiti di velocità sulle autostrade in Europa? Una domanda basilare. Perché in Germania non ci sono limiti di velocità sulle autostrade e in altri paesi sì e sono diversi? Beh, si tratta di un settore dove vorremmo avere molta più armonizzazione, soprattutto relativamente ai limiti. L'alta velocità è causa di incidenti e di morti. Per questo si devono prendere tutte le misure necessarie per regolare la velocità, ad esempio imponendo dei limiti e rafforzando i controlli della polizia o anche le videocamere di sorveglianza. Ma è comunque competenza degli stati decidere su questo o no? Sì, ma fino a un certo punto potremmo imporre dei limiti di velocità sulle arterie transeuropee e che dopotutto sono aree di competenza dell'Unione Europea. Ok, passiamo a un'altra domanda sulla sicurezza delle strade europee. Buongiorno, mi chiamo Axel e vivo a Bruxelles. Ho notato un aumento degli incidenti causati dalla distrazione. Mentre si guida si mandano messaggi, si telefona. Vi domando quale sia l'impatto delle nuove tecnologie sui nostri comportamenti di guida. Ci sono telefonini e tablet dappertutto. Si può navigare su internet, persino in macchina. Avete ad esempio fatto una ricerca su quanti siano gli incidenti d'auto causati da gente che mentre guida è su Facebook? Grazie mille. Beh, non è soltanto Facebook. Molta gente invia messaggi mentre guida. Sì, viviamo in una società molto più connessa. Dalle nostre ricerche è emerso che il 20-30% degli incidenti è causato da distrazioni, causate ad esempio dall'utilizzo del telefono per mandare messaggi o telefonare. E fumare o parlare con altre persone? Sì, ma la questione è parlare al telefono. Anche se hai le mani libere e il tuo cervello sta pensando ad altro, la persona con cui parli non vede dove ti trovi, se ha un semaforo, vicino a una rotonda o un punto che ha bisogno della tua attenzione. Per questo siamo a favore del divieto di controllare Facebook o il BlackBerry mentre si guida. E fumare, intendo, limita la capacità di usare le mani. E' un'altra forma di distrazione. Quando si guida si deve prestare la massima attenzione alla strada. Passiamo a un'altra domanda su iTalk. Salve, mi chiamo Pasi e vengo dalla Finlandia. Cosa sta facendo l'Europa per la sicurezza dei motociclisti? Lui preferisce sicuramente viaggiare su acqua. Nonostante il numero degli incidenti d'auto stia diminuendo, quello delle moto rimane ancora molto alto. Sì, è una delle priorità per la nostra organizzazione e anche per l'Unione Europea. Ed è giusto. Le morti tra chi viaggia sulle due ruote rappresentano il 16% del totale. Il rischio per loro è altissimo. Quindi sta dicendo che la colpa è dei motociclisti? O meglio, che la gente non fa attenzione ai motociclisti? Penso che vada fatto di più per aumentare la consapevolezza sugli altri utenti delle strade. Sulle moto, ad esempio, si sta discutendo su una norma che imponga sistemi di freno avanzati, ma anche sull'obbligo del casco e sul ruolo che la polizia deve avere in questo. Dobbiamo spiegare i rischi che si corrono senza il casco, soprattutto nell'Europa meridionale, dove la tentazione di lasciare il casco a casa è più alta. Questo è un tema su cui abbiamo tantissime domande. La prossima sui talk. Salve, mi chiamo Tari Kuber, vengo dalla Bosnia-Herzegovina. Sempre più spesso i media ci parlano di tecnologie dove il ruolo dell'uomo è spesso quello di osservatore. È giusto far ricorso a queste tecnologie e pensare a un futuro che esclude il fattore umano nel traffico? A Parigi sempre più treni della metropolitana sono automatici. Potremmo un giorno avere delle macchine automatiche e questa potrebbe essere la soluzione per la sicurezza su strada? Di sicuro le tecnologie possono aiutare. Noi ne promuoviamo tre tipi connessi a tre cause di morte. Per la velocità c'è un'applicazione chiamata Intelligent Assistance che informa se hai superato il limite in area a velocità ridotta. Poi c'è l'alcohol interlock che ti impedisce di guidare a meno che dal test non risulti che sei sobrio. È una cosa che si può fare da soli oppure attraverso un telefono e ti viene detto che non puoi guidare? Sì, è uno strumento che si trova nel veicolo. Il terzo importante strumento imposto per legge ai guidatori è la spia che ricorda di dover allacciare le cinture di sicurezza. Tutte e tre queste tecnologie aiutano il guidatore ad affrontare i rischi legati a velocità, alcol e non utilizzo delle cinture di sicurezza. Passiamo a un'altra domanda sulla sicurezza delle strade. Mi chiamo Nicolà, dal Belgio, e volevo sapere, è utile avere cartelli che annunciano la presenza di autovelox? Che senso ha un autovelox se viene segnalato cento metri prima? Un importante tema di discussione, ma è un bene se le persone decelerano oppure è peggio avere segnali che ti informano che sei sotto controllo? Beh, in generale avere delle videocamere di sorveglianza è un bene. La ragione per cui la polizia avverte i guidatori della presenza di videocamere è legata alla pericolosità del punto, dove si sono già registrati diversi incidenti, alcuni mortali. Ci sono paesi dove troviamo politiche diverse? Ci sono diverse politiche in ogni paese, ma il messaggio chiave è che le videocamere salvano la vita. Non sono messe lì per annuiare e ricordare le regole, ma per la sicurezza. Hanno dato prova di funzionare? Assolutamente funzionano. Do un esempio, in Italia sono stati introdotti tutor videocamere che registrano la velocità all'inizio e alla fine di un tratto di strada. La mortalità sulle strade è scesa del 50% ed è soltanto uno dei tantissimi esempi che mostrano come le videocamere abbiano salvato la vita. Passiamo all'ultima domanda su Italk. Antonino Tripodi, Italia. Gli incidenti che coinvolgono utenti vulnerabili sono un problema rilevante in molti paesi europei. Quali azioni metterà in campo la Commissione europea e quanta enfasi sarà data a questo tema nel nuovo programma Horizon 2020? Credo che con l'espressione vulnerabili si riferisse a pedoni, ciclisti, categorie di persone più esposte al rischio sulle strade. La nuova politica a livello europeo, ma anche a livello nazionale, è incoraggiare le persone a pedalare e camminare di più, soprattutto per i brevi tragitti. Vogliamo promuovere di più le passeggiate e l'uso della bicicletta. Per questo necessitiamo anche di un contesto più sicuro in cui far muovere pedoni e ciclisti. Quello che l'Unione europea potrebbe fare per combattere l'alta velocità, come ho già detto, è ridurre i limiti, soprattutto nelle zone urbane. L'introduzione di zone con limiti dei 30-40 km all'ora mi sembra un buon esempio, ma anche rendere più visibili pedoni e ciclisti. Per le biciclette significa avere le luci e per i pedoni indossare, ad esempio in inverno, le strisce retro-riflettenti da applicare sugli abiti. Ok Ellen Townsend, grazie davvero per aver risposto alle nostre domande su Italk qui al Parlamento europeo di Bruxelles. Continuate a mandarci le vostre domande via webcam, troverete il tema della prossima puntata sul nostro sito web. A presto! A presto!